Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di How to Survive Siamo qui con Dirty Sanchez E vediamo se ci aiuterà a dirci cosa dobbiamo fare Questo inizio è piuttosto ubriaco e piuttosto pazzoide Quindi direi che intanto libero qui l'avamposto già che ci sono Intanto lo devo liberare quindi Portiamoci avanti col lavoro Muorici grazie Tubo lungo Muori muori Oh anche lo struzzo killer C'è un po' di tutto lì dentro in quel piccolo spazio Siamo tutti compressi lì dentro gli zombie Oh Ciao ragazzi Morite grazie Boom Oh 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 Bastardi Questa l'avamposto è tosto devo dire Adios Devo correre per i chilometri proprio Beh cercate di non farmi prendere da questi bastardi Oh yeah Addio cari Addio cara Addio caro Addio Oh yeah Benone Sono fatto un attimo Oh Struzzi 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 Wow Mi sta C'è uno di loro che mi sta massacrando Ho qualcosa per ricaricarmi la salute? Forse questo No Oh my god Sono fottuto Uh Wow 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 Serve qualche erba per curarmi Forse qui c'era Mi ero dimenticato che stavo senza erbe Ok Questi dovrebbero ridare da salute Se non sbaglio Lasciamo la catena Raccogli questo Grazie No quelli ridanno la resistenza Non la salute Bene Facciamo un tantinello fottutini Inini Ok però l'abbiamo liberato qui l'avamposto Quindi direi che Sento zombie ma non li vedo Ok uno lì Bene Posso andare dentro a riposarmi Oppure sono troppo riposato No non ho fatica per niente Perché anche ho mangiato quella cosa Quindi Prendi cosa Oh oh Medikit Dammi qua Usa Yeee Mi serviva proprio Quegli struzzi mi hanno massacrato Praticamente Penone Ora parliamo con Sanchez Vediamo un po' che ha da dirci Ic Certo Certo Whisky e R.A. non vanno bene insieme Portiamo la madre di quella bambina Con la vecchia avanti Ok carissimo Sanchez Ti porterò la vecchia per farti divertire E il whisky Combina Posso praticamente Si conviene con questo ok Questo seleziona E riempimela d'acqua Grazie mille Benone Ora abbiamo un bel po' d'acqua A portata diciamo Bene Dov'è che devo andare? Oh wow E' tipo strapiena tutta l'isola Bene Che culo Fatemi riempire la sega elettrica Viaggia che ci siamo Qui c'è la benzina A due passi Tipo qui Che palle Non mi posso spostare di un centimetro Che attravo 80 zombie Muori Muori Vabbè Benone Ciao ciccione Addio ciccione Un'altra tannica vuota Che può essere utile questa per riempirla di benzina Benone Così ne ho una d'acqua e una di benzina Mi sembra Mi sembra perfetto Ok Riempi vai Benone Abbiamo il mega pienone sia di benzina Che di Che d'acqua Metagliatrice artigianale Metagliatrice automatica Artigianale altissimo Rattore di fuoco e danni in te Buono Che mi serve aspettate Oh c'è un'erba curativa La voglio Che cosa posso buttare Lascia momentaneamente questi Poi li raccolgo di nuovo Grazie mille E Combina Ok Ho un medikit finalmente E vediamo un po' Cosa potrei mangiare Mangia questo Perfetto Riprendo questi C'è qualcos'altro qui? No Qui c'è quello che Quello cura È curativo Quindi Credo che butterò questi elmetti Che non ci faccio una mazza Non ho nemmeno visto di avere Non ci avevo fatto caso Non ho visto che li avevo E dammi questo Grazie mille Ora quello vado molto molto velocemente a cucinarlo E poi togliamo il disturbo da qui Andiamo a raccogliere la roba che Ci ha detto Dirty Sanchez Dirty Sanchez C'è un fuoco qui? Si sta di lì Andiamo di lì Il palo è tutto chiuso Devo fare il mega giro Oh my god È tutto chiuso Posso uscire da qua? Si Ok Il fuoco stava... Stava la Ok Muori grazie mille Ciao ragazzi Venite a farvi segare tutti quanti Ma c'è di qui Equipaggia... Questo Cucinalo Ottimo Quello mi curerà Quando avrò bisogno Almeno se mi ricordo bene Perché non sono sicuro ma... Ok ho trovato gli pacchi di Sanchez Devo buttare qualcosa anche per accogliere quelli Che palle Ehm... Butta la carrucola che non ci faccio nulla Quello E questo cos'è? Ehm... Protezione per le gambe rinforzato Protezione per le braccia Per avere un pneumatico e... E qualcos'altro in un momento mi sfugge Ehm... Oh mio dio Che pale Lo sentivo in sottofondo Lo sentivo quel bastardo Oh merda Oh merda lasciami Oh mio dio quanto è forte Muori Teccati questo Teccati questo Dove li trovi sti zombie che non ci stanno qui? Li generi tu all'improvviso? Sarà una cosa piuttosto lunga farlo secco questo mi sa No? Teccati questo Oh! Ho fatto un buff Teccati questo Teccati questo Teccati questo Teccati questo Oh! Viscio Ah! Mi ha distratto quel bastardo di zombie che è arrivato Oh! Bastardo! Ah! Vuoi fare le cose corpo a corpo? Ok Vieni qua Piaciuto? Peccati questo Oh! Oh! Liscio Lancia lancia Oh! Dai che puoi morire su via Ti è rimasto poco da vivere Ah! Bastardo Caricami va Oh! Liscio Oh! Oh! Liscio Finiamolo con la sega elettrica Yeah! Oh yeah bros Addio caro Wuhuuu Pianta blu speciale Io mi mangerei uno di questo Anzi tutti e due già che ci siamo Ok E dammi la pianta blu speciale cosa ci posso fare con questa? Non ci posso fare una mazza quindi lo lascio direttamente Troppano sempre queste piante blu speciali che non ho idea a cosa servono Quindi non le porto mai perché Mi sembrano inutili Quindi vabbè Ciao Pulite tutti grazie mille Bastardi sti struzzi mi fanno un casino di danno Non li vedo mai quando arrivano Oh! Adios Attimo Facciamo qualcosa di utile qui Occhiali No grazie non mi servono Prendiamoci il medikit a sto punto Ah come sono messo a salute, a fatica e tutto il resto Ok vabbè Sono messo ancora abbastanza discretamente bene diciamo Andiamo Andiamo di qua Allora Ok Oh! Ciao ragazzi Ciao testolina Mori grazie Allora Di lì al momento non ci vado Andiamo prima di qua Uno sta qui Ciao ragazzi Ciao ragazzi C'erano proprio in mezzo gli zombie praticamente qualcosa Ok ottimo Stanno bevendo il liquore gli zombie giustamente Bene Dammi qui Dammi qui Sono zombie alcolizzati questi E ora Allì c'è la barca per tornare indietro non mi interessa Però mi interessa andare di qua al momento Un altro golem deceduto? Bene Ehm Ok sempre dritto di là Andiamo Ciao ragazzi Addio Devo fare un'ecatombe Per la strada diciamo Altrimenti non mi fanno arrivare purtroppo Mi seguono in un duemila Beh ancora ho abbastanza benzina Non mi lamento Calcolando per quanto l'ho usata insomma Comunque mi sono anche portato la scorta di benzina Ok Ok Muori grazie mille Muoricci grazie mille Ok Mitra con mirino artigianale Wow Roba potente Roba potente Allora Ehm Sì Ora dovrei Andarmene di lì Ehm Però sapete che c'è Mi faccio una piccola scorciatoia Con la bomba che ho creato poco fa Altrimenti ci impieghiamo 85 anni Oh Ciao Simpatico Simpatico Coso Cornuto Muori Mettila di caricarmi bastardo Mi hai dato un casino di salute Simpatico cervo bastardo Allora Ehm No ne devo fare un'altra di bomba Quindi bevi qui Ehm Combina Combina con quello Combina con questo Ormai Lo so a memoria Combina con questo Perfetto Ehm Riempiamo Un altro po' la sega elettrica Dato che Ok Perfetto Muori grazie Ok Grazie mille Questo lascialo Muori Muoric Muori Ehm Muori Ehm Oh Muori Ok Comunque ragazzi Noi continueremo a cercare il carico del tizio pazzoide nella prossima puntata Spero che il video vi sia piaciuto Commentate Se non siete iscritti al canale Iscrivetevi Noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Oh 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 What andando avanti soltanto uno dei loro uomini. Tutti gli altri tornano in prima linea, appostandosi sotto i cadaveri dei loro compagni. Su di loro, lì in attesa, gocciola il sangue dei morti. La sabbia incrosta la loro pelle. Li trasforma, segnandoli per sempre. Appena il nemico si avvicina, quei 14 emergono dalla sabbia. Erano come cacciatori invisibili alla preda, pronti ad avventarsi sui nemici inermi.